Nonostante il tasso di disoccupazione giovanile in Liguria nel 2015 sia sceso di 10 punti percentuali rispetto all'anno precedente, 34,5%, il primo trimestre del 2016 si è aperto con una frenata del numero di giovani che provano a mettersi in proprio. Su oltre 3.000 imprese ligurinate, 802 hanno alla guida uno o più giovani con meno di 35 anni di età. Questo equivale a 141 in meno rispetto allo stesso trimestre del 2015. Il saldo tra iscrizioni e cessazioni resta comunque positivo con più 311 imprese. Nel panorama nazionale la Liguria scende dal quarto al quattordicesimo posto per il tasso di crescita delle imprese giovanili, 2,2%. Guidano questa classifica il Trentino Alto Adige, Molise e Umbria. L'analisi settoriale effettuata da Union Camera Liguria fa emergere che i giovani scelgono prevalentemente di aprire attività nel campo dell'edilizia come muratori, del commercio, ambulanti in abbigliamento e altri prodotti e del turismo in bar e ristoranti. Da segnalare poi la crescita di agenti assicurativi in aumento del 3,7%. I giovani liguri tendenzialmente scendono di avviare un'attività preferendo come forma giuridica la ditta individuale, oltre l'80%, pur se è in calo del 3,8% rispetto al primo trimestre del 2015.